Ciao e benvenuti alla sezione 5 della lezione 5, l'ultima sezione della lezione. Questa sezione si chiama Parliamo un po'. Come sempre abbiamo quattro domande e tu prova a rispondere. Numero 1. Come si chiama tuo padre? Come si chiama tuo padre? Mio padre si chiama Luigi. 2. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho due fratelli e una sorella. 3. Quanti siete in famiglia? Quante persone siete in famiglia? In famiglia siamo in cinque o in famiglia siamo cinque persone. Numero 4. Sei sposato? Sei sposato? O sei sposata? Sì, sono sposato. O sì, sono sposata. Oppure no, non sono sposato. No, non sono sposato o sposata. Bene, adesso descriviamo queste persone. Proviamo a descrivere queste persone. Per esempio, lui, com'è lui fisicamente? Com'è il suo aspetto fisico? Lui. Prova a descrivere. Lui è calvo, ha gli occhi azzurri, è basso e brutto. Lui è calvo, non ha i capelli, ha gli occhi azzurri, è basso e brutto. Com'è lei fisicamente? Com'è il suo aspetto fisico di lei? Com'è lei? Prova a descriverla. Lei è alta, è bionda, ha i capelli lunghi. Lei è alta, è bionda, ha i capelli lunghi. Oppure diciamo Lei ha i capelli biondi e lunghi, è alta e bella. Ha i capelli biondi e lunghi, è alta e bella. Bene, adesso vediamo le parole e le espressioni della lezione. Famiglia Foto Genitori Madre Padre Sorella Fratelli Nonni E ancora Anziani In pensione Loro sono anziani, sono in pensione, non lavorano. Ragazza Ragazza Lei è una ragazza alta, bella, ha i capelli biondi, i capelli lisci e gli occhi azzurri. Molto bene La lezione 5 finisce qui Arrivederci alla prossima lezione Ciao Ciao